The Game, Nessuna Regola, è un film del 1997 diretto da David Fincher. Siamo nel mondo dell'alta finanza, a San Francisco, e qui il protagonista della nostra vicenda è Nicholas Van Horten, interpretato da Michael Douglas. Nicholas è un uomo che sta per compiere 48 anni. È stato sposato con una certa Elizabeth, ha una vita, dal punto di vista lavorativo, assolutamente di successo, è ricco, sempre stato ricco di famiglia, ma ha un'esistenza, tutto sommato, abbastanza solitaria, vuota. Di fatto, le uniche persone eventualmente con cui può avere un minimo di contatto sono alcuni che frequentano una vita, magari il suo avvocato, o perché no, magari la domestica che di fatto un pochettino l'ha cresciuta. La vita di Nicholas, fra l'altro, così come quella del fratello Conrad, interpretato in questo film de Champagne, è stata caratterizzata da un terribile evento. Infatti, se non erro al suo 48esimo compleanno, infatti, il padre di Nicholas ha compiuto un gesto terribile, togliendosi la vita, lanciandosi dal tetto della villa sontuosa in cui vivono. Nicholas, così come il fratello, erano molto piccoli all'epoca. In questo frangente, quindi, in questo setting, si svolge questa storia. Una storia in cui, ad un certo punto, con la propinquarsi del suo compleanno, Nicholas ha modo di rilacciare, come accade occasionalmente, i rapporti con il fratello. Se una pranza assieme, ad un certo punto, il fratello, un personaggio evidentemente eccentrico, che ha delle fisse occasionali, periodiche, che caratterizzano la sua esistenza, ad un certo punto, il personaggio di Champagne propone un cartellino, un gioco, Nicholas. Una misteriosa organizzazione, la CRS, appunto, ha appena aperto la propria sede a San Francisco. Conrad non dice nulla in merito a quale fantomatica esperienza potrebbe essere quella che Nicholas potrebbe fare con questa organizzazione. Gli dice soltanto, come tanto è un regalo, quindi è già pagato, di andare ad informarsi per poter fare un'esperienza straordinaria. Inizialmente è reluttante ad ascoltare il fratello, ad accettarne l'invito, comunque, questa attrattiva per questa cosa così apparentemente straordinaria lo porterà inevitabilmente a presentarsi a questa CRS. Sarà l'occasione questa per fare tutta una serie di esami psicologici, attitudinali, anche fisici, per poter potenzialmente plasmare questa esperienza su misura per il nostro. Ad un certo punto, però, gli arriverà una comunicazione, ovvero sia che lui non ha superato le prove preliminari e che quindi il gioco non potrà avere inizio. Sarà una grande delusione per Nicholas, una delusione che però, mentre che la storia va avanti, ad un certo punto ci renderemo conto essere soltanto fittizi. e molto probabilmente il gioco, così come viene definito, questa esperienza straordinaria che fanno certe persone, quelle delle quali capitano momentaneamente nella vita di Nicholas, molto probabilmente ha avuto inizio persino prima che il nostro se ne rendesse conto. Un film ed un'esperienza che porterà Nicholas a incrociare la sua vita e il suo destino con il personaggio di Christine, Debora Kara Hunger. Una Christine che è una cameriera in un ristorante che verrà anche licenziata addirittura a causa dell'assolutamente insopportabile Nicholas, ma che si ritroverà coinvolta come Nicholas appunto in questo gioco. Un gioco in cui sarà di fatto un mix di intrigo a sfondi anche horror eventualmente in determinati frangenti che porterà un grosso sconvolgimento nella vita del nostro che si ritroverà immerso fino al collo appunto in questa esperienza straordinaria della quale sarà praticamente impossibile riuscire a comprendere per bene i limiti della quale sarà assolutamente difficile comprendere il fine lo scopo finale e a cui praticamente può partecipare chiunque in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi momento. Un qualcosa di sconvolgente in un'esistenza sicuramente di successo ma comunque solitaria e probabilmente sofferta ossessionata dalla morte del padre che porterà un profondo sconvolgimento in quel Nicholas che ha di fatto creato una vita di successo ma profondamente solitaria e dolorosa. Un film questo che ho avuto a modo di vedere e rivedere nel corso degli anni e che mi ha sempre molto molto affascinato. Adesso che sto vedendo o rivedendo i film di Fincher per bene in questo mio recupero della sua filmografia sono rimasto ancora più stupefatto di quanto questo film sia secondo me ben fatto ed affascinante. The Game è un film assolutamente suggestivo per praticamente tutti quelli che sono le componenti a mio avviso sensoriali dell'esperienza cinematografica. La colonna sonora tratti assolutamente minimale tratti leggermente più invasiva è un qualcosa che accompagna le scene e che soprattutto di determinati frangenti fa veramente immergere lo spettatore così come in realtà tutto quanto il guizzo registico il montaggio ed in generale tutto quello che è l'aspetto visivo di questo The Game nessuna regola è un qualcosa per me di assolutamente affascinante affascinante perché questa oscurità non totale comunque parziale ed importante che caratterizza praticamente ogni quadratura ogni momento diciamo della storia è un qualcosa di estremamente suggestivo e rende perfettamente il mood la circostanza appunto lo status legato al personaggio di Nicholas immerso anche a più livelli di quanti potrebbe immaginarsi in questa esperienza in questo gioco un intrigo assolutamente affascinante nel quale veramente ogni singolo elemento personaggio ogni singolo tassello potrebbe essere coinvolto per quanto riguarda questo film è bello vedere il personaggio di Michael Douglas che lo interpreta secondo me in maniera riuscita soprattutto nei frangenti diciamo del lavoratore dell'imprenditore di successo appunto dell'alta finanza lui è un consulente finanziario se non sbaglio un consulente che è assolutamente inarrestabile per certi versi e a tratti profondamente spietato anche magari quando magari deve mettere praticamente alla porta dei collaboratori storici dei suoi della sua famiglia di fatto il personaggio è riuscito così come in prima parte anche il personaggio di Conrad questo fratello scapestrato che ha immerso Nicholas in questa esperienza con Penn appunto o perché no anche il personaggio di Christine questa cameriera che è la Deborah Karahunger che si è ritrovata immersa in questa situazione quasi un po' come un effetto collaterale di fatto come un danno collaterale apparentemente lei è finita in mezzo diciamo a tutto questo in maniera assolutamente casuale ed è un pochettino se vogliamo quello che non c'entra nulla e che di fatto è l'elemento un po' imprevedibile di questa storia questa storia che permette comunque di vedere degli occasionali momenti di umanità legati al personaggio di Douglas basti pensare ad esempio a quando a un certo punto quando dopo una serie di disavventure di colpi di scena anche molto importanti dopo una serie di manipolazioni il nostro avrà perso più di quanto potesse immaginarsi c'è una scena ad esempio un liner in una tavola caldo o quant'altro in cui il personaggio con pochi dollari con sé chiede se qualcuno potrebbe col poco che ha in cambio di col poco che ha dargli un passaggio per tornare a casa oppure il momento in cui la comprensione della dinamica in cui si è trovato il punto in cui si è trovato suo malgrado comincia a essere maggiore il nastro Nicholas decide di dare soprattutto di fatto vincendosi anche a un livello di violenza se non reale potenziale che lascia pensare a un uomo distrutto da un incubo teoricamente doveva essere in realtà un sogno straordinario ma che si è rivelato in realtà qualcosa di assolutamente sconvolgente un qualcosa di sconvolgente in cui si è ritrovato immerso e dal quale apparentemente non trova il modo di fuggire un film affascinante come ho detto che non ho ben capito il perché spulciando un po' su internet credo che Fincher non dico l'abbia disconosciuto però comunque non credo che abbia il favore del suo regista infatti soprattutto per la terza parte se devo dire sinceramente io per quello che è il mio gusto personale la mia percezione personale che è sempre stata in realtà nelle varie visioni che ho fatto di questo film nel corso degli anni ho soltanto un paio di elementi forse che potrei giudicare un pochettino critici o discutibili in questa storia uno che è appunto forse quello che Fincher critica maggiormente nel suo lavoro ovvero sia la parte finale di questa storia che per certi versi non si percepisce almeno io non l'ho percepita come così riuscita rispetto alla parte iniziale a quella centrale nella fattispecie dando ovviamente fare un po' di rivelazione ovviamente rispetto alla storia ad un certo punto quando il nostro arriverà alla conclusione conclusione vera per certi versi ho trovato un pochettino discutibile che lui potesse avere un cambiamento così importante nel giro di di fatto così poco tempo come è appunto la circostanza location della serata finale di questa esperienza si nota un personaggio profondamente cambiato che per certi versi rispetto ai tanti straordinari eventi che gli capitano che si fa capitare magari ad un certo punto probabilmente questo personaggio avrebbe necessitato un po' più di tempo nella vita vera per poter elaborare quanto gli è accaduto ed eventualmente cambiare evidentemente cambiare in positivo rispetto a quanto però questo ovviamente era evidentemente impossibile nel corso della durata di questa storia sarebbe stato necessario molto più tempo evidentemente e quindi dobbiamo prendere per buono il fatto che dopo un'esperienza così straordinaria su così tanti livelli così tanto sfaccettata in realtà più che avere un significato di per sé ti lascia un qualcosa secondo me quanto mi riguarda una capacità di vedere le cose in un'altra prospettiva dopo averne vissute così tante a fronte di questo lo spettatore deve semplicemente accettare il fatto che nella sintesi di un film un personaggio che era come era appunto il personaggio di Michael Douglas a senso di questa storia può dopo così tanti sconvolgimenti su così tanti piani dopo aver perso apparentemente così tanto essere così tanto stato ingannato e essere cambiato così tanto dobbiamo accettare semplicemente il fatto che il suo personaggio possa avere questo del genere e possa avere dei rapporti di un certo tipo con certi personaggi che hanno incrociato la sua strada l'altro punto che posso fare unicamente è che forse non nella parte centrale poco più avanti c'è un pochettino di dilatazione per certi versi della storia che può un pochettino pesare forse dello spettatore per certi versi però la natura stessa di questa esperienza del gioco in realtà porta a questa cosa perché di fatto la struttura di questa storia di questa esperienza di questo gioco non è in realtà caratterizzata salvo in varie occasioni magari alla fine in dei picchi che poi di fatto vedono soltanto una discesa ma è un continuo reiterare di altri elementi che si scoprono essere parte del tutto questo andamento però è abbastanza continuo per certi versi e malgrado si aggiungano sempre più elementi diversi c'è comunque una certa regolarità nel tutto nel apportare altre dinamiche o dettagli nel tutto e quindi per certi versi uno spettatore potrebbe non dico stufarsi ma comunque sentire come potenzialmente un pochino più pesante e un po' troppo ritmato diciamo il fatto che si continuino ad aggiungere cose tanto che ad un certo punto quasi si potrebbe perdere il filo di quanto si sta vedendo anche se di fatto questo film vuole un pochettino farti perdere il filo o quanto meno vuole farti dubitare vuole farti dubitare tante cose vuole farti dubitare persino di alcuni paletti che avevi all'inizio di questa storia di fatto il personaggio di Highglass sarà costretto a dubitare di chiunque di qualunque cosa che poterà andare avanti in questa storia una storia che nel complesso come ho detto mi ha sempre affascinato e che trovo assolutamente riuscita comunque a netto di che può pensare buon Fincher e che comprendo come si è potuto divenire nel corso degli anni un cult perché ho sempre saputo almeno che questo The Game nessuna regola effettivamente è riuscito a divenire un piccolo cult mi sento quindi di consigliarvi questa storia una storia che così come abbiamo modo di percepire che è una canzone che si ripete ad un certo punto farà sentire il personaggio e noi un pochettino come Alice che andando a percepire qualcosa di straordinario andrà a poco a poco sempre di più ad entrarsi nella tana del bianconiglio chissà cosa si scoprirà chissà che cosa ne verrà fuori in questo frangente questo film The Game nessuna regola di Fincher un gran bel film che vi consiglio